In Mozambico molte madri trasmettono due cose ai loro figli, l'amore e l'HIV, ma la trasmissione da madre a figlio si può impedire. Per questo Antoniano Onlus sta realizzando case di accoglienza e cura per le mamme incinte e i bambini che hanno perso i loro genitori a causa dell'AIDS. Per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dona ora. Con carta di credito al numero verde 800 200 302. Costruiamo un tetto per nascere. Dona ora al numero verde 800 200 302. A riscosso grande successo la fiera sociale del libro svoltasi a Castrovillari a metà dicembre su iniziativa dell'amministrazione comunale che l'ha organizzata tramite Marco Gatto e Antonello Fazio con la collaborazione di Gaetana Evangelista e Giuseppe Martino. La città del Pollino ha ripreso con la guida del sindaco Domenico Lopolito un vecchio filone culturale e sociale ricandidandosi a ricoprire nel panorama culturale regionale il ruolo di vivace capoluogo intellettuale. Nel protoconvento francescano autori, librai, editori si sono incontrati tra loro e con il pubblico formato da centinaia di studenti per fare rete in nome della lettura che forma e fa crescere utilizzando tra gli altri dei testimoni al come lo scrittore Eraldo Affinati e il prete coraggio Don Dacomo Panizza che hanno reso bene l'immagine di quale deve essere l'impegno sociale dell'intellettuale. Affinati, qual è l'impegno sociale dell'intellettuale oggigiorno? Beh, l'impegno sociale dell'intellettuale è quello di mettersi in gioco, di assumerci il punto di vista altrui, anche lo sguardo altrui. Sento molto io l'esigenza di una letteratura che non resti chiusa nella turise burnea che sia soltanto per addetti ai lavori. No, per me la letteratura deve essere la custode delle parole, lo sento molto sia come scrittore che come insegnante. Queste due figure sono i responsabili della parola e credo che questo incontro che abbiamo avuto oggi qui a Castrovillari, in questo festival sociale, sia proprio l'espressione di questa esigenza. C'è una letteratura che non sia soltanto carta o schermo, ma sia carne e sangue. Questo è l'obiettivo, naturalmente si rischia, perché si rischia anche di esporci, di sbagliare, però è meglio sbagliare in buona fede piuttosto che restare, come diceva Don Milani, con le mani dentro le tasche. Proficuo l'incontro con gli studenti. Tra l'altro lei è andato oltre, portando anche delle testimonianze di vita vissuta, ad esempio quella nell'istituto in cui insegna, con gli operai, i futuri operai che sono contenti di sporcarsi le mani di grasso, però a loro ha suggerito di non accoltenarsi. Sì, non mi fa piacere che lei richiami questo aneddoto che ho raccontato oggi a questi studenti calabresi, perché io insegno ai futuri operai, ai futuri meccanici. L'istituto professionale Carlo Cattani ho posto all'interno della città di ragazzi, in una comunità educativa di Roma e spesso vedo questi adolescenti che magari fanno uno stage in officina, sono appunto con le mani sporche di grasso nel momento in cui lavorano sui motori, però poi io cerco di dire ragazzi, attenzione, facciamo in modo che fra dieci anni quando io ritornerò qui in questa officina voi non siate le stesse persone di oggi, ma cercate di cambiare, di mettervi in gioco, di studiare, di conoscere, la cultura vi deve portare in avanti, dovete diventare cittadini di serie A, non di serie C o D, quindi si tratta di mettere un po' di cultura anche nell'attività quotidiana delle persone e questo è l'obiettivo della scuola. Don Panizza, qual è il ruolo dell'intellettuale oggi, il ruolo sociale? Il ruolo sociale e intellettuale è quello umanamente e non soltanto intellettualmente di parlare dell'umanità, di parlare della realtà e di parlarne in una maniera non da venduto, in una maniera libera e di parlare a tutti, tutti e tutte, cioè l'intellettuale di solito lo si confonde con la persona che parla a pochi perché parla difficile, oggi più che mai è importante parlare a tutti e farsi capire da tutti, io non credo che le cose grandi della vita debbano essere spiegate con parole difficili o con frasario difficile, credo che le tante persone, le tante culture che oggi ci stiamo incontrando, abbiamo bisogno proprio di diventare tutti più intellettuali. Con questo le volevo chiedere, tutti possono aspirare a diventare intellettuali grazie anche ai nuovi sistemi di oggi? Grazie ai nuovi sistemi ma io credo anche grazie ai vecchi sistemi, cioè il fatto di proprio formulare una parola dicendola o scrivendola, il fatto di parlare con, parlare a e non parlare, perché certe volte troviamo degli intellettuali che scrivono sui giornali o anche le televisioni che essendo venduti devono parlare e non parlare, devono dire e non dire, qui si tratta proprio di dire la storia, di dire i fatti, di dire i significati e perciò tutti possiamo dire, oggi più che ieri però uno può parlare attraverso la sua testata del giornale o la sua tv, oggi si può parlare anche in tantissimi modi, specie con internet e così via, però il punto qual è? Non soltanto dire ma aver cose bellissime da dire e certe volte è bellissima anche la cruda verità. La cultura rende liberi, lei è un prete antimafia, è libero anche per questo, perché è una persona colta, che ha letto e che legge molto? Non lo so, io sono un prete che fa il prete, dopo sono questi mafiosi che sono anti me, no? Io se fossero più civili e più umani sarei contentissimo, però credo che le cose che mi è capitato di leggere, di studiare ma anche di pregare, credo che mi hanno aiutato a dire di più.